Musica Parla il 31enne pestato a sangue da tre giovani dell'est che aveva rimproverato per aver orinato davanti all'albergo che gestisce con la famiglia a Marghera ha una frattura sotto l'occhio sul volto. Spaccate all'ordine del giorno ora anche il sangue e la violenza, meglio non reagire tanto lo Stato ci ha abbandonato, queste le parole di chi vive e lavora nel quartiere di Catene. Giornata veneziana per il ministro dell'Interno, piante e dosi ha garantito più uomini, tecnologie e risorse a Venezia e terraferma massima attenzione in particolare su Via Piave. Quasi tre mesi di attesa per la nuova carta d'identità per una persona di Venezia che ha cambiato sesso, il consigliere del PD Ticozzi denuncia i tempi dell'anagrafe comunale. Automobilista perde il controllo della macchina e finisce sui binari della Venezia a Chioggia a Sant'Anna, circolazione ferroviaria bloccata per tre ore, conducente e illesa. Papa Francesco ha nominato Monsignor Moraglia, membro della Commissione Cultura Vaticana, gli sono grato e gli assicuro la preghiera dei veneziani, ha detto il patriarca. A Lido numeri turistici da pre-pandemia dopo poche settimane dall'inizio delle prenotazioni, tutti gli stabilimenti balneari sono circa all'80% della capienza. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano ancora la brutale aggressione subita ieri da un albergatore di Marghera. Bene, l'abbiamo intervistato oggi subito dopo che ha lasciato l'ospedale. Sentiamo le sue parole. Mi hanno detto che lunedì devo fare un'operazione qua all'occhio perché ho una frattura. Mi hanno rimandato a casa oggi solo perché sono troppo gonfio per fare l'operazione subito. Mi hanno detto di riposarmi, di riposarmi un sacco, che sono fatto di cristallo in questo momento e quindi di fare attenzione. Lunedì rientrerà in ospedale per capire se l'equip del maxillo facciale di Mestre potrà rioperarla all'occhio sinistro dove ha subito la rottura dell'arcata sopraccigliare. Così Alessio Wang, l'imprenditore 31enne di Catene di Marghera, dopo essere stato barbaramente pestato a sangue con calci e pugni alla testa, al volto e al collo ed aver riportato fratture ed ematomi multipli facciali da tre sconosciuti. Mai viste prima ad ora, erano completamente sconosciuti, probabilmente anche ubriachi direi. Senti, comunque che età possono aver avuto? Tardi 20-30 anni, fino a metà dei 30. Al massimo? Sì, massimo, sì. Erano italiani? No, no, erano dell'est Europa. Episodio di cui ricordi vaghi e molto confusi racconta... Io di per sé, dopo il primo pugno, non mi sono più reso conto di quello che stava succedendo, solo dolore a quel punto. Ho cercato di spingerli via, ma mi hanno assalito in tre dopo. Questo almeno mi hanno raccontato, perché naturalmente dopo il primo colpo io ero già per terra, che mi agitavo. E dopo mi hanno continuato a picchiare per circa due minuti, due minuti, tre. Il fatto, ieri all'ora di colazione, nell'albergo di Via Trieste, gestito da lui e da tutta la sua famiglia, quando si stava alternando con la mamma, Jin Weifen, nel cambio turno. Se penso al fatto che avrebbe potuto fare questo che è successo a me e a mia madre, mi stai sentito molto peggio. Meno male che si sono fermati con questo, insomma. Cioè, non posso pensare a cosa potrebbe essere potuto succedere. A salvare lui e la madre dalla furia selvaggia dei tre balordi, l'intervento degli ospiti della struttura, dice. Meno male che c'era gente in albergo, questa è stata la mia vera salvezza. La gente è iniziata a uscire dall'albergo, naturalmente, vista la folla, hanno deciso di scappare. Consegnato alle forze dell'ordine il numero di targa dell'auto dei tre aggressori. Vedete lo stato in cui mi hanno ridotto? Secondo voi sono persone per bene queste? Io non lo so. Nel prossimo servizio le parole di paura della mamma dell'albergatore pestato. La schiena è battuta sul mulo, sulla porta qua, c'è tutto livido sulla schiena. Purtroppo, guarda, mare, quanto sveglio, praticamente svegliandoli con un incubo. Con un incubo perché ti viene proprio paura. Ora, anche passando su strada, viene una persona accanto a me passandolo e ti viene paura che uno praticamente ti salta, come se fosse una persona che ti salta addosso. Ha trascorso una notte nera e buia, come gli incubi che non l'hanno fatta dormire, visto il pestaggio subito anche da lei. Jean Wifen, mamma dell'aggredito e a sua volta barbaramente picchiata, tutta tumefatta sul corpo e con una grave lussazione alla spalla, scatta di soprassalto per ogni rumore, racconta a paura di ogni persona che le si possa avvicinare. In 19 anni di attività non è mai successo un fatto di tale gravità, dice. Ti fa paura, ti viene un incubo veramente così. Soprattutto io, insomma, in queste condizioni sarebbe ancora buono, ma mio figlio l'ha fatto praticamente male, male. Il suo appello al prefetto, sindaco e forze dell'ordine affinché la tutela non sia un diritto dimenticato. Noi vogliamo una tutela, diciamo che non succede a altre persone come noi, cioè di vivere su un incubo. Cioè, magari sperando con questa intervista, con le giornali che noi abbiamo fatto, spero per le prossime persone che non si capitano una cosa del genere, ma per tutti, per i familiari, per i figli, per le madri, insomma, per tutti quanti che deve stare tranquillo, insomma, vivere, ma lavorare e vivere, ma anche deve essere tranquillo. Siamo abbandonati così gli esercenti e i commercianti del quartiere di Catene, dove è avvenuta l'aggressione, sentiamo. Dalle spaccate notturne che continuano e alle quali i negozianti di Catene hanno quasi fatto l'abitudine, la malvivenza manda in ospedale a suon di pugni un giovane albergatore che reagisce a chi gli sporca l'ingresso dell'hotel. C'è stato un escalation che preoccupa, perché oggigiorno tutti i negozianti, vista questa cosa, sono preoccupati, perché non hanno più coraggio di niente, nessuno in pratica. Bisogna non reagire, scusi, buongiorno, lei sta bene, sì, faccia pure. Questa è la risposta da dare, perché altrimenti rischi che ti pestino. Probabilmente per carenza di mezzi c'è meno controllo del territorio rispetto a una volta, quindi dovrebbe avere anche un po' più di riguardo in queste aree periferiche. È difficile che queste cose vengano male in piazza Feretto. Sbandati di varie nazionalità vagano per la frazione e sfuggono ai controlli delle forze dell'ordine. Ragazzi a tutti i giovani c'è poca educazione, c'è poco, le famiglie non esistono più, e quindi tutto è più difficile da fare, più difficile da gestire. Sicuramente abbiamo fatto un passo di qualità in negativo. Questa operazione che è venuta qua davanti alla mia farmacia è stata un passo in negativo. Non resta che subire in silenzio, quindi, per evitare conseguenze peggiori come quelle patite da Alessio Wang, precisa Pizzini. Ai primi di questo mese, a 700 metri dall'albergo all'autostrada, questa pizzeria ha subito una spaccata notturna che ha fatto molti più danni del fondo cassa portato via dal ladro, arrestato poi dalla polizia. Tutti quelli che arrivano in Italia, nessuno si vuole adeguare. Si pensano sempre che stanno al loro paese. Questo non è possibile e c'è bisogno di un cambiamento. Ma presto, perché siamo già in ritardo con tutto. La gente deve vivere normalmente, come prima, non come adesso, con la paura che ti vengono a rubare, che ti scippano. Non li tolgo per niente, anche per le cose che mi sono successe, anche a me personalmente, in poco tempo. Lo sconcerto è al massimo. Dopo una vita passata a lavorare e a credere in una società più giusta. Lei mi diceva prima che una volta era tollerante. Ora? Non lo sono neanche un po'. Non lo voglio pronunciare la parola, ma è un brutto momento. Siamo in totale abbandono. Prima in festatura a Venezia, poi a Palazzo Balbi. Giornata veneta per il ministro degli interni, Matteo Piantedosi. Sicuramente Venezia e il Veneto, come tutto il territorio nazionale, beneficia e beneficerà di iniziative più di carattere generale che il governo ha preso anche in occasione dell'ultima legge di bilancio, dove ha previsto dei distanziamenti aggiuntivi per alimentare, proprio il fondo assunzioni, per alimentare assunzioni straordinarie tale da coprire il turnover e andare anche oltre. Si tratta di mettere personale con maggiore vocazione operativa, personale di giovanità rispetto al turnover con i pensionamenti. Parla di risorse e assunzioni straordinarie il ministro all'interno, Matteo Piantedosi, impegni importanti presi di fronte ai diversi rappresentanti delle forze dell'ordine, ringraziati anche per la gestione della manifestazione degli anarchici sabato scorso in Laguna, a sostegno di Alfredo Cospito e di Joan Sorroche, l'attentatore del K3 a Villorba, esplicito poi il riferimento a una delle zone più calde di Mestre e dell'intera regione. C'è un'attenzione particolare, l'avete già visto, su alcuni luoghi che sono di particolare sensibilità, penso a Via Piave, famosi insomma. Inevitabile parlare di migranti in settimane caldissime sul fronte degli sbarchi, con Piantedosi che da Palazzo Balbi ribadisce la linea dell'esecutivo. Frenare questo flusso incontrollato e quindi di avere numeri più sostenibili per l'intero sistema di accoglienza nazionale. Stiamo lavorando per fare in modo che non ci sia un impatto, soprattutto sui territori. Altro discorso fa intendere il ministro i flussi irregolari, a tal proposito potrebbero esserci altri click day come quello di lunedì scorso. Il governo non ha nessun pregiudizio a prendere in considerazione tutto ciò che può essere di aggiuntivo rispetto a quello che è il verificato maggiore fa bisogno del sistema delle imprese. Penso che quello che dice il ministro vada assolutamente nella direzione di dare una risposta alle imprese. Ovviamente salvaguardando i lavoratori locali, che deve passare l'idea che ci sarà uno switch tra lavoratori locali e nuovi lavoratori. Tutti i nodi affrontati nel giorno in cui Viminale e Regione siglano il protocollo per l'attuazione in Veneto del nuovo numero unico di emergenza europeo, il NUE 112. La transizione verso il nuovo regime durerà qualche mese. Noi abbiamo voluto fino in fondo avere una progettualità come un abito sartoriale visto e considerato che noi portiamo in eredità un 118 che è un fiore rocchello a livello internazionale e dobbiamo essere efficienti come prima. Ed oggi in prefettura Venezia il Comitato Ordine e Sicurezza dove il ministro Piantedotti ha promesso rinforzi in termini di uomini, tecnologie e sorveglianza per Venezia in tutta la terraferma come confermano prefetto e questore. Un incontro soddisfacente che sostanzialmente in cui il ministro ha ribadito ma come già l'aveva fatto nei giorni scorso che ha seguito personalmente l'evolversi anche dell'ultima manifestazione, quella degli anarchici assegnando alla prefettura di Venezia 550 uomini, anche oggi ha ribadito questo concetto, c'è un'estima vicinanza e qualsiasi azione che si renderà necessaria il ministro sarà ben felice di condividere con noi eventuali difficoltà. Il ministro ha ribadito, quanto già è espresso in una circolare di alcuni giorni fa, di dare massima attenzione alle aree urbane a rischio. Questo ha detto, dando massimo sostegno a tutte le esigenze che ci dovessero essere. 84 giorni per aggiornare la carta d'identità di una persona di Venezia che ha cambiato sesso, è la denuncia del consigliere comunale del PD Paolo Ticozzi che giudica inammissibile il tempo che l'anagrafe del Comune ha impiegato quasi tre mesi per la rettifica della carta d'identità dal giorno della sentenza del Tribunale. Secondo il consigliere all'anagrafe ci sarebbero vari casi in ritardo per la correzione con una tempistica media, ha detto, di 16 giorni e picchi anche di 61. Un'auto è finita sui binari stamattina su una linea Venezia-Chioggia. La circolazione dei treni è rimasta bloccata per quasi tre ore. Tutto è successo poco prima delle nove di giovedì a Sant'Anna di Chioggia. La giovane conducente della Citroen ha perso il controllo dell'auto che è finita prima con le gomme sull'erba. Ha abbattuto una centralina elettrica della linea ferroviaria ed è poi scivolata ancora, finendo con l'anteriore oltre il primo binario. Il traffico dei treni della linea Venezia-Chioggia è stato subito bloccato. Sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere l'auto e metterla in sicurezza. La polfer e i tecnici delle ferrovie per il ripristino della linea. Nessuna conseguenza per l'automobilista. Monsignor Moraglia, membro del di Castero della Commissione Cultura Vaticana, sono grato a Papa Francesco, dice, sentiamo. Anche il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, insieme a tutto il presbiterio veneziano, ha inviato un messaggio assicurando vicinanza e preghiera a Papa Francesco, ricoverato al Gemelli per un'infezione respiratoria. Monsignor Moraglia ha così affidato il Santo Padre alla Madonna della Salute, tanto cara ai veneziani, e ribadito ancora una volta la sua gratitudine al Pontefice, che recentemente lo ha anche nominato come componente del di Castero Vaticano e della Commissione Cultura. Ringrazio il Santo Padre per questo incarico. Sono stato già a Roma nel di Castero, ho parlato col Cardinale Presidente di questo di Castero, e ci sono tante opportunità anche tenendo conto proprio della città di Venezia, che può essere una realtà culturalmente vivificata dalla fede, ma nello stesso tempo la fede può essere anche arricchita dalla bellezza, dalla storia della città di Venezia. Anche il Governatore Zaia ha inviato al Patriarca un messaggio di felicitazioni per questo nuovo incarico e servizio. 11 anni da Venezia, tanti auguri, come sono stati? Sono stati dei belli anni, sono passati per me velocemente, e spero di averne ancora davanti, e poter essere capace di interpretare al meglio quello che il Signore vuole da un Vescovo, pensando anche di avere una grazia grande, quella di abitare in una bella città. Andiamo ora all'Ido di Venezia, dove è boom di prenotazioni delle capanne per l'estate 2023. C'è tanta voglia di mare per l'estate 2023 anche sul litorale veneziano. A poco più di tre settimane dall'apertura delle prenotazioni delle capanne stagionali lungo le areniglie del Lido di Venezia, le richieste arrivano già a superare l'80% circa in media tra i diversi stabilimenti balneari. La parola a Pierluigi Padovan, vicepresidente di Unione Mare Veneto, riferimento per il Lido di Venezia. All'Ido si vive l'estate in maniera molto più sociale e si sta molto più assieme, quindi durante gli anni del Covid c'era stato un rallentamento. Ora siamo tutti pronti, dopo questi tre anni di pandemia, a ritornare a vivere appieno l'estate assieme. Un ritorno era grande dopo la pandemia. Il ritmo delle prenotazioni viaggia già verso il tutto esaurito. C'è proprio voglia da parte dei nostri clienti di ritornare a vivere l'estate come erano abituati. Questo porta le prenotazioni ad avere un ritmo molto più veloce degli anni precedenti. Inoltre, anche per quanto riguarda il turismo straniero ed internazionale, il Lido, grazie anche alle mosse dell'amministrazione comunale, è riuscito ad inserirsi all'interno di Venice Sands e quindi ha potuto partecipare come consorzio anche alle fiere internazionali di Monaco e proprio in questi giorni di Vienna. Un gioco di squadra con le altre località della Costa Veneta che porta anche un richiamo internazionale del turismo. Ci potrà dare una visibilità che negli anni passati non avevamo e quindi per portare al Lido anche una clientela internazionale che serve a riempire anche le nostre spiagge. Siamo al termine dell'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi in chiusura. Uno sguardo, come sempre, alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Anticiclone disturbato dal passaggio di alcune perturbazioni atlantiche e tempo in peggioramento sul nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 31 marzo. Sul Veneto in pianura avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sui monti più nuvoloso. Ci saranno delle precipitazioni più probabilmente nel corso del pomeriggio e a carattere sparso. Fenomeni in esaurimento entrosera. Temperature stazionarie minime tra 5 e 10 gradi. Massime, invece, comprese tra i 12 e i 18 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Cielo in prevalenza nuvoloso, con piogge sparse, in genere deboli su pianura e costa, più moderate, invece, sulla zona montana e anche abbondanti sulle prealpi. Temperature minime sugli 8-12 gradi. Massime sui 13-16 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto nuvoloso, con rovesci alquanto diffusi durante la giornata. Temperature minime intorno ai 9 gradi. Massime sui 16 gradi. Dal Meteo è tutto. Vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Grazie. 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 Grazie.